Sono Luca e ora siamo in Asilo, che è un'occupazione in Naples, Italia. Sono un attivista. Ora sono parte di un network di strutture sociali, esperienze di mutualismo e di un'organizzazione di strutture social che si chiamano Napoli Direzione Opposta, che significa Napoli in la direzione opposita. Abbiamo anche partecipato di una plataforma di città, che si chiamano Massa Critica, che era una plataforma basata sui principali del municipalismo e che voleva influenzare la debata pubblica e politica nella città, sulle elezioni locali in Naples e per inserire alcuni tipi in questa debata che erano interessanti per la maggior parte dei persone, e per la maggior parte della città, come i commons, o il gestione dei servizi pubblici, come la acqua pubblica. Il tema principale era la democrazia. come possiamo decidere sul futuro della politica in nostra città, come possiamo costruire le decisioni. e abbiamo fatto un'esperimentazione con alcune assemblee popolari in diversi territori della città, in diversi zone della città, che coinvolgono molti centri di persone per discutere molti problemi e ciò che vogliono cambiare una parte della città. Come in Naples, piaceremo! Come in Naples!